Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In FIPILI, veicolo fermo o in avaria tra Ginestra Fiorentina e Lastra signa in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori alla linea 3 della tramvia, da martedì 18 aprile alle ore 21 sarà attivato il cantiere per la realizzazione della sede tramviaria a previo spostamento dei sottoservizi nel tratto di Piazza Dalmazia ancora senza binari, quindi dal tratto finale di Via Le Morgagni a Via Vittorio Emanuele II e a Via Corridoni. Infine per gli aerei, il volo Ryanair da Pisa a Malta dalle 17.55 partirà alle 18.25. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!